Adesso si parla dell'aspetto economico. Io in questi tre anni il contratto a terra non l'ho mai fatto io. Adesso il problema pare che sia quello economico, ma è sempre stato il Presidente che mi ha proposto e bene o male anche perché non è che puoi stare troppo a sindacare quello che lui ti offre. Io ho cercato in questi anni di chiedere solo l'aspetto dei premi, che poi mi sono sempre guadagnato, quindi ho avuto un po' di fortuna anche in questo, però ci sta e va bene. Adesso è chiaro che io la prima situazione che ho è il Teramo perché comunque sono sotto contratto e sto analizzando, sto capendo se effettivamente ci sono i presupposti per rimanere, ma non sotto l'aspetto economico. Perché io quando sono arrivato a Teramo ho parlato con il Direttore, lui mi ha esposto nei minimi particolari, il progetto tecnico, tutte le cose da fare e il contratto non ci ho manco pensato. Ho sposato sicuramente quel progetto che era molto molto valido, tant'è vero che lo si è dimostrato. In questo momento qua Teramo mi dicono che devo dare delle risposte, però io se non vedo come viene programmata la stagione che risposte devo dare? Sotto l'aspetto economico, ripeto, non sono io sicuramente a ragionare come è sempre successo negli altri anni. Perché comunque il Direttore Sportivo non ci sta. Io parlo con due o tre Direttori Sportivi, cioè non lo so chi è, ufficializziamo, vediamo che idee c'è. Adesso è un momento che giustamente, ma che non è Teramo, penso che tutte le squadre in questo momento qui hanno finito una stagione e quindi si dovrà riorganizzare e si vedrà, insomma. Penso che ci vorrà tempo.